Ciao amici benvenuti nel mio canale. Oggi condividerò un nuovo video su Sila e Ali Libraim Ceyan. Prima di andare al mio video, non dimenticare di iscriverti al mio canale e commentare i tuoi pensieri. Iscriverti al mio canale e condividere il mio video. Sila Turkoglu e Ali Libraim Ceyan sono una coppia che è uno dei giovani e talentuosi attori del mondo televisivo turco. Il duo, che è riuscito a rimanere all'ordine del giorno sia con la recitazione che con la vita privata, ha recentemente celebrato la felicità di Sila Turkoglu vincendo un nuovo premio. Questa bella notizia è stata accolta con grande gioia dai tifosi e dai media. Due attori di successo si sono conosciuti nei progetti in cui hanno recitato insieme per un po' e una relazione è iniziata con la loro amicizia iniziata sul set. La nostra coppia, che è entrata in una relazione romantica dopo lunghe amicizie, ha attirato l'attenzione dei media e fan, e la loro relazione cominciò a essere seguita da vicino. La bella attrice Sila Turkoglu, che ha recentemente vinto un nuovo premio a coronamento del suo successo nel mondo televisivo, ha fatto sì che la coppia festeggiasse insieme la loro felicità. Sila Turkoglu è stata riconosciuta sia come risultato personale che come attrice popolare durante la cerimonia di premiazione. Ali Libraim Cheyan, d'altra parte, ha sostenuto il suo successo ed era orgoglioso del suo amante. Entrambi gli attori hanno condiviso la felicità dei loro fan condividendo messaggi e foto affettuosi sui loro account sui social media. Questi amanti e condivisioni sincere hanno dimostrato che il rapporto tra la coppia è forte e solido. Grazie mille per aver guardato il nostro video. Ci vediamo nel prossimo video. Abbi cura di te. Arrivederci.